La scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra nella zona del Matese è stata avvertita anche a Giuliano nelle aree limitrofe. La prima è stata registrata alle ore 18.03 di magnitudo 2.7. Ne sono susseguite altre di pari intensità, sino a quella delle ore 18.09 di maggiore entità, ben 4,9 gradi. La scossa è durata più di 20 secondi, 20 secondi interminabili, soprattutto per coloro che abitano i piani più alti dei palazzi. La popolazione sconvolta racconta dei lampadari che si muovevano, mura scricchiolare, qualcuno è rimasto incollato alla poltrona dallo spavento. Insomma, molta paura, paura che è stata espressa anche sui social. Tanti residenti si sono riversati in strada, non si sono registrati danni a persone o a cose. Altre scosse si sono susseguite nella notte. Per ben tre volte la terra è tornata a tremare. Quella più intensa di 3,1 grado è avvenuta alle ore 2 del mattino. Stamane ancora altre scosse, l'ultima alle ore 7. Si tratta di uno sciame sismico di non lieve entità che pare possa interessare la zona ancora per alcune ore.